Se potessi scegliere quale epoca rivivresti? La pre-storia. Andavo ancora a letto con mia moglie. Ecco, la stanza degli ospiti. Non viene a trovarci nessuno. Dormici tu. Non vuoi più dormire con me? Caro signor Drummond, siamo liati di offrirle un'esperienza unica. Sarà il protagonista di una ricostruzione storica di sua scelta. Ha già qualche idea sull'epoca? Sì, il 16 maggio del 74. Benvenuto, signor Drummond. Incredibile. Avete ricostruito tutto alla perfezione. Quel giorno ho incontrato una persona che ho amato molto. È arrivata. È un'esperienza incredibile. Anche se lo so che è tutto finto, è bello lo stesso. Adoravo vederti ballare. Vai con le rose. Ti devo tutto. Mi devi tutto. Tutto. Mi manchi. Davvero? Non so cosa mi riserverà il futuro. Ma voglio viverlo fino in fondo. Credo che piovesse quel giorno. Forza, vai con la pioggia. Grazie, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla volta a tutti. Grazie a tutti. Torna a tutti. Ta butta. La vergena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda sono gli plastikosti.